Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale allora, oggi proviamo insieme gli ultimi acquisti che ho fatto della collezione di Kiko e per l'occasione direi che andiamo a realizzare proprio una full face targata Kiko concentrandoci soprattutto sulle novità e quindi direi di non perderci in chiacchiere, iniziamo subito allora, ho fatto e ho utilizzato i due prodotti skin care che ho acquistato di questa collezione appunto la Beauty Essentials ho preso la maschera in tessuto, lo sapete in realtà è una maschera in hidrogel illuminante e nutriente, arricchita con l'istratto di olivera, perfetta per preparare la pelle all'applicazione del make up allora, è una maschera in hidrogel che aderisce abbastanza bene ma tende un po' a spostarsi, quindi da quel punto di vista diciamo che se mentre tenete la maschera fate altro, un pochino tende a spostarsi l'ho tenuta per mezz'ora come è indicato forse anche di più e devo dire che ho notato sicuramente l'aspetto illuminante della maschera lascia proprio la pelle fresca e radiosa ma assolutamente non la trovo una maschera idratante e proprio per nulla nutriente da quel punto di vista secondo me non fa proprio nulla di che è piacevole appunto lascia la pelle fresca e illuminata magari in estate anche con la stagione più calda può essere una maschera piacevole da fare però ecco nulla di particolare non è la miglior maschera assolutamente che abbia mai fatto di questo tipo insomma potete anche lasciar perdere insomma non è necessario spendere 5 euro per questa maschera secondo me quindi questa mi invece per quanto riguarda il detergente struccante questo 2 in 1 cleanser e make up remover vi devo dire che invece lo trovo un buon prodotto questo è descritto appunto sia come detergente che come struccante delicato per una pelle radiosa arricchito con olio dal bicocca ed estratto di peogna a parte che il pack è carinissimo mi ha lasciato un po' perplessa il fatto che contenesse solo 75 ml di prodotto insomma almeno 100 di solito per un prodotto struccante mediamente secondo me ci vogliono per farlo durare un pochino però devo anche dire che non serve tanto prodotto per lavare il viso devo dirvi che a me piace come detergente proprio anche per texture perché proprio questa cremina è proprio un detergente in crema molto molto piacevole da andare a massaggiare sul viso molto morbido la profumazione è veramente delicata per nulla invadente ha questo colorino rosato e mi piace proprio per la tipologia di texture più come detergente che come struccante perché non è un olio non è un burro quindi lo preferisco utilizzato così e vi devo dire però che usato come detergente ha un potere comunque di pulizia del viso pazzesco veramente vi lascia proprio la pelle con quella sensazione di freschezza come se andasse proprio a ripulirla da tutto quello che potete avere sul viso impurità sporco residui di make up insomma tutto quello che ci può essere soprattutto a fine giornata ma anche al mattino lo sto utilizzando e lo trovo veramente un buon detergente anche per dare una risvegliata alla pelle perché comunque la lascia bella fresca e compara avendo questo potere di detersione così potente non dico che lascia la pelle che tira che vi sentite tutta la pelle proprio tirare però sicuramente non è neanche il prodotto che insomma già nella detersione vi lascia la pelle proprio morbida quasi come se fosse anche un po' idratata questo proprio no sentite poi l'esigenza di fare la vostra skin care ma tanto io comunque la faccio a priori quindi mi va bene mi piace secondo me è un ottimo prodotto da utilizzare anche nella stagione più calda se magari ci si lucida anche di più perché dà proprio quella sensazione di andare ripeto a togliere tutte queste impurità sul viso e la lascia proprio fresca e compatta quindi mi piace la consiglio vivamente che ha una pelle misso grassa perché ha una pelle secca ripeto non sentirete la pelle poi in particolare in stato di comfort però se fate poi tutta la vostra skin care comunque non è male soprattutto se lo utilizzate anche come secondo step nella doppia deterazione e poi con la stagione calda ripeto secondo me dà proprio questa bella azione di andare a ripulire bene la pelle dal tutto quindi comunque per me è promosso a me piace questo detergente non è affatto male allora passiamo invece al makeup iniziamo a truccarci per il primer utilizzo questo primer della vecchia collezione Wonder Woman che è uno dei miei primer ve l'ho detto mille volte preferiti di Kiko perché ha proprio questa texture che è una cremina gel mousse fresca piacevole ma che lascia la pelle morbida e idratata questo è veramente un primer che viene voglia di utilizzare anche se solitamente secondo me non amati i primer perché è veramente piacevolissimo ed è proprio leggero si assorbe bene mi mancherà quando sarà finito perché davvero lo utilizzo con enorme piacere speriamo che magari riproponga qualcosa di simile ci sarebbe bene una collezione Siva perché ripeto è piacevolissimo ma ne metterei proprio anche dose generosa perché tanto non appesantisce la pelle non vi appesantisce la base prima del fondotinta ne potete mettere anche un po' fantastico veramente spero che Kiko me lo riproponga perché mi piace proprio tanto e invece come fondotinta vado a mettere uno dei miei fondotinta più amati di Kiko effettivamente sto amando un po' di fondi di Kiko non ho preso quello della nuova collezione perché ripeto non so non sono particolarmente attratta ormai dai fondotinta in edizione limitata anche perché già magari mi piace provare quelli in collezione permanente se mi vado a riempire anche di quelli in edizione limitata però se qualcuno l'ha provato comunque mi faccio a sapere perché sono sempre curiosa chissà mai magari con degli sconti vado a utilizzare quindi liquid skin second skin foundation nella tonalità cool rose 15 che è una di due fondotinta che ho scoperto nell'ultimo periodo di Kiko che mi fa impazzire lui è quello idratante della linea sempre base che vi ho già mostrato di cui vi ho già parlato altre volte l'unica cosa che odio di questi fondotinta a pipetta è proprio l'applicatore io farei solo ed esclusivamente dosatori a pump nella skin care nel make up perché secondo me sono i più comodi in assoluto ma fa nulla perché il fondo è talmente bello che glielo perdono è proprio effetto seconda pelle non mi dilungo troppo perché ve l'ho già mostrato e ve l'ho già parlato altre volte però magari qualcuno non me l'ha sentito dire nei precedenti video quindi io ogni tanto mi ripeto mi piace parlarvi anche più volte di uno stesso prodotto se mi piace effetto pelle nuda coprenza sul basso non nulla però non arriviamo a una media coprenza no bassa medio bassa non di più eh ma è il genere di prodotto che a me fa impazzire per me che amo soprattutto per la base l'effetto proprio make up no make up questo prodotto è meraviglioso e sicuramente basta rientrerà tra i miei fondotinta proprio preferiti di sempre ovviamente se amate basi più strutturate i prodotti che vi mostro io per quanto riguarda i fondotinta forse non sono quelli più indicati per voi perché ripeto io proprio amo i prodotti che non avverto minimamente sul viso se hanno anche una coprenza bassa fa nulla se ho qualche imperfezione in quel momento vado col correttore ma davvero niente non sopporto più le basi pesanti allora vado con il correttore tra l'altro anche il colore è azzeccatissimo ed è difficile poi con Kiko trovare anche il colore così perfetto e per il correttore allora voglio utilizzare dato che non ho più correttori di Kiko perché ho terminato l'ultimo che avevo voglio utilizzare il 3 in 1 Hiker Cushion Q10 Power di Nivea che è un correttore che mi piace tantissimo ma ve l'ho detto anche su Instagram mi si è rotto l'applicatore perché si è staccata la spugnetta e non sta più attaccata riesco ancora a far uscire il prodotto non è comodissimo così però ce l'ho anche nel progetto insomma speriamo a questo punto di smaltirlo in tempi abbastanza rapidi quindi sto cercando di utilizzarlo il più possibile però voglio mostrare a velazione anche questo prodotto di Pixi l'Under Eye Brightener alla vitamina C un prodotto che volevo declatterare avevo pensato di dar via perché tanto non so non mi sembrava un genere di prodotto che avrei utilizzato e invece alla fine ho detto vabbè ce l'ho l'ho preso proviamolo perché non dargli anche una possibilità e invece infatti mi piace allora ha questo colore pescato perché è una tonalità proprio pescata si chiama peach qualcosa adesso qua non c'è scritto era sulla scatolina allora non è un prodotto che ha una vera coprenza vedete che è proprio pescato quindi è perfetto soprattutto qui nella zona dove potete avere l'occhiaia più marcata però dà proprio questo effetto più luminoso e va leggermente a camuffare anche un po' l'occhiaia se l'avete allora vado col correttore che è insomma un disastro vediamo cosa riesco a far scendere questo è nella tonalità light o quella insomma più chiara meraviglioso quel correttore di nivea peccato che abbia questo applicatore che penso sia un po' difettoso perché mi avete detto poi su instagram anche in altre che vi è successo la stessa cosa addirittura una ragazza mi ha detto che gli è successo il giorno dopo che l'aveva acquistato io almeno ce l'ho già da un po' però insomma l'effetto è stupendo base anche qui altra base che mi piace tantissimo quando realizzo basi che amo sono molto molto contenta vado con una cipria di Kiko di una vecchia collezione questa della holiday gems perché è una cipria setosa morbida idratante va bene adesso che non ho la pelle particolarmente lucida e vedete che questa cipria è proprio impalpabile ve l'ho mostrata già altre volte meravigliosa per pelle secca se non vi lucidate particolarmente e anche per il contorno occhi proprio perché è sottile e setosa la sto utilizzando tantissimo ultimamente la sto proprio amando in questa stagione e il pennello è proprio simile vedete dal lato delle polveri a quello che è uscito anche con la beauty essentials questo è quello della collezione di san valentino di quest'anno ho già un vuoto non mi ricordo il nome troppe collezioni ormai sono in tilt completo con Kiko e si è praticamente identico setole bianche solo che quello è un pennello che si può si possono poi separare le setole si divide in due mi sembra e ci sono quelle da viso e quelle occhi questo però mi piace tantissimo perché anche questo da ventaglio da illuminante è bellissimo perché è bello cicciottoso questo pennello lo amo lo utilizzo veramente molto spesso per il bronzer vado a utilizzare questo della palettina multi finish trio questa è nella versione 01 questa è stata una delle uscite più belle del 2022 di Kiko è favolosa questa palettina non so se si trovi ancora nel caso spero che l'abbiate presa perché ve ne ho parlato tanto nel 2022 per me è meravigliosa è stata veramente una delle uscite secondo me migliori proprio da avere nel 2022 di Kiko che non mi ha impressionata tanto come collezioni limitate anche meno forse di quest'anno per come è partito perché l'anno scorso della collezione di San Valentino non avevo preso proprio nulla non mi era piaciuta per niente di quella primaverile ho preso poi il bronzer il blush qualcosina avevo preso ecco di questa primaverile mi hanno deluso tantissimi blush perché sono veramente troppo luminosi per i miei gusti sono praticamente sempre per me per come mi trucco io per come preferisco io il blush più topper da blush hanno proprio una polvere che texturizza insomma mi evidenziava la grana della pelle i pori quindi per me non vanno assolutamente bene e mi piacciono i blush luminosi e radiosi però non così tanto poi il blush è sempre il prodotto che a me attira per primo e Kiko ha delle formule di blush davvero fantastiche quando fa quei blush con quelle texture morbide idratanti oppure anche i blush cotti che sono luminosi e radiosi ma non texturizzano così come quelli sono diversi ha delle formule stupende a volte Kiko però niente questa non era proprio nei miei gusti peccato perché il pack era bellissimo e avrei avrei voluto un blush così per collezione però no decisamente ho già tanti prodotti non è il caso di acquistare solo per collezione se poi non mi piacciono fantastico questo bronzer è meraviglioso veramente stupende tutte e tre le polvere di questa palettina sono pazzesche anche qui in realtà vedete c'è un blush luminoso che io utilizzo praticamente come topper anche se vi devo dire che come texture mi piace più questo è più sottile e secondo me texturizza un pochino meno rispetto ai blush dell'ultima collezione che mi sono sembrati proprio veramente tanto tanto luminosi anche questo comunque è luminoso bisogna andarci piano vado adesso con la palettina di blush in crema uscita con la collezione ecco Powerful Love quella di San Valentino questa invece sì che è stata una bellissima uscita primi blush in crema così in cialda che ho provato di Kiko ho provato solo quelli liquidi fantastici potrebbe fare anche dei bronzer in crema insomma sì potrebbe spaziare un attimo speriamo che ci riserverà qualche sorpresa qualche prodotto un po' più innovativo con le future collezioni perché sicuramente questi sono i prodotti che entusiasmano chi come me compra da tanto perché è qualcosa di un po' diverso è una formula fantastica a parte che le tonalità mi piacciono entrambe tantissimo perché sono hanno quella giusta morbidezza cremosità di un blush in crema per stendersi alla perfezione senza fare assolutamente macchia sono veramente facili da applicare gestite benissimo anche il colore l'intensità non si portano via il fondotinto al di sotto vedete lasciano questa bella radiosità alla pelle però allo stesso tempo non sono appiccicosi bagnaticci non sono proprio di cream to powder però restano appunto comunque non unti sulla pelle bellissima bellissima formula mi piacciono un sacco questo colore rosato è meraviglioso veramente fantastico oggi vado solo di rosa perché secondo me il luco occhi ma penso esca abbastanza sulle tonalità rosate quindi penso che questo blush ci possa stare molto bene ma è bellissimo anche lui soprattutto in estate come tonalità questa è la punta di rosa che mi piace di più nei blush proprio rosato ma non quel rosato freddo con sottotono viola come i famosi blush di Dior o quello di Kylie per me non ha punta un po' troppo fredda violace perché sono neutro fredda ma le tonalità troppo fredde così come i malva freddi sulle labbra mi ingregiscono insomma non mi sta bene il sottotono violaceo quello no questa punta di colore per me è pazzesca l'amante di rosa è veramente la mia tonalità preferita nella famiglia di rosa deve essere proprio così diciamo che quei due blush famosissimi quello di Dior non mi piace neanche nella formula per nulla infatti non ce l'ho più l'ho dato via perché a parte che non scrive praticamente nulla poi si mette tanto prodotto rimane abbastanza polveroso perché altrimenti non scrive e invece quello di Kylie mi piace molto come texture ma non mi piace tanto la tonalità infatti visto che mi piace comunque la formula l'ho voluto provare in un'altra tonalità che vi mostrerò allora abbiamo da provare anche un'altra novità di questa collezione di Kiko che è il Glow Face and Body Highlighter l'illuminante in Seek ho anche qui un prodotto diverso almeno non avevo mai acquistato non mi ricordo se fossero già usciti degli illuminanti in Seek di Kiko questa è nella tonalità 01 mi ha attirata tantissimo un po' perché ho scoperto che sono molto pratici e comodi da utilizzare questi illuminanti in Seek che ho sempre snobbato e mi è piaciuto perché da proprio quell'effetto specchiato sbocciato così sulla mano e per nulla glitterato vedete non ci sono proprio glitter l'effetto così è stupendo adesso lo vado a mettere un po' col dito voglio vedere e mi piace tanto anche questo illuminante perché anche lui oh che bello da proprio questo effetto specchiato della skin ma vedete che non c'è mezzo glitter o brillantino visibile si fonde proprio con la pelle con il blush meraviglioso e non è unto bagnato neanche questo prodotto bellissimo sono veramente contenta di averlo preso vado un attimo così per vedere si è facilissimo da applicare in entrambi i modi l'ho sfumata anche in un secondo con le dita sia con lo stick applicandolo direttamente dallo stick o prelevandolo prima col dito no bellissimo questo va proprio con l'effetto luminoso radioso perfetto da tutti i giorni perché non rimane troppo finto o esagerato wow che meraviglia questo prodotto secondo me anche in estate si realizza proprio una base leggerissima e non si vuole andare a mettere proprio l'illuminante in polvere visto che già ci si lucida un pochino giusto per dare un tocco magari anche alla sera un prodotto del genere mi sembra perfetto perché comunque non va troppo ad a rendere il tutto troppo luminoso lucido wow stupendo stupendo bellissimo ecco poi magari se voglio far durare il tutto un po' di più essendo questi tutti i prodotti in crema vedete che poi hanno funzionato benissimo anche sopra la cipria avevo già messo anche il bronzer comunque quando tendenzialmente voglio che duri un pochino di più il prodotto in crema magari fa un po' caldo paura di lucidarmi un po' che possa sparire più in fretta del solito io vado con un al di sopra un pochino con un prodotto in polvere come un blush e in questo caso ho preso quello della collezione Blossoming Beauty quello primaverile dell'anno scorso e ne applico giusto un po' per sigillare il prodotto al di sotto anche questo è un bellissimo blush che ha la parte opaca e radiosa vedete che lascia sempre questo bellissimo finish radioso wow che bella questa base ecco vedete questo è l'effetto radioso luminoso che mi piace non di più oltre per me è veramente esagerato probabilmente bisogna avere una pelle perfettissima per polveri così luminose non dico di avere una pelle con delle particolari problematiche però insomma i miei pori ci sono ogni tanto l'imperfezione c'è nonostante l'età avanti in continuazione ogni tanto i brufoletti compaiono allora volevo mettere per fare il look occhi la neutral eye base ma mi è venuto in mente che siccome andiamo a utilizzare anche la palettina sempre della collezione beauty essentials 01 una di voi mi ha scritto su instagram che in realtà la tonalità più chiara le ha detto la commessa che dovrebbe essere un primer primer occhi no ma sono troppo belli questi pack veramente io avrei voluto prendere un blush un prodotto in polvere solo per avere anche il pack magari in un altro colore ma ve lo assicuro diciamo che il bronzer secondo me non era male vediamo se adesso riesco a smaltirne uno o due delle vecchie collezioni magari con uno sconto ci potrei pensare perché il bronzer secondo me ha un'ottima formula che carina questa palettina vediamo se qui Kiko non mi deluderà allora questo dovrebbe essere un primer è morbido però io non lo sento cremoso proprio non so non mi sembra un primer proprio no è comunque una polvere non è un prodotto in crema poi non so se sia pensato veramente come primer ma comunque uniformare perché ha questo color burro però ecco vedete è una polvere non è in crema quindi non so boh vabbè io ormai lo vado a mettere tanto non succede nulla anzi se avete la palpebra che tende a lucidarsi può anche andare bene visto che è in polvere uniforma sicuramente sì effettivamente però poi come se si asciugasse e non si sente più l'effetto polveroso va bene comunque non è male vediamo se sopra si comportano bene gli ombretti allora vi dico già che ho un problema nel senso che qui mi manca un opaco chiaro ad esempio queste due tonalità io so già che non le utilizzerò praticamente mai perché marroni scuri così scuri io non li uso questo non mi dispiace ma di solito più per intensificare l'angolo esterno sapete che io sono da look chiari poi per tutti i giorni non sto praticamente mai a fare look intensi ma non sono un po' nel mio stile non preferisco le tonalità più chiare e qui però mi manca un colore da transizione più chiaro di questo sicuramente allora iniziamo allora a prendere un colore shimmer e andrei con questo qui la cosa che le cialdine sono piccolissime di queste palette sono molto molto morbidi questi shimmer proprio cremosi forse più cremosi che io abbia mai al tatto toccato di chicco e se guardate come insomma rimane proprio l'impronta del dito ci sono palette con ombretti che utilizzo da un sacco e sembrano quasi ancora come intonsi invece questi proprio sì insomma sembrano utilizzati già dieci volte con una sola passata molto bello guardate che bell'effetto luminoso che da è anche abbastanza sottile devo dire come come texture bello mi piace veramente tanto e voglio andare assolutamente con il lilla che è il colore che poi mi attirava di questa palettina perché per il resto come ho detto è molto simile anche all'altra le altre tonalità secondo me sono molto molto simili la differenza di questa stava soprattutto nel lilla che poi la rende anche un pochino più fredda carino questo lilla no ma che bellino così non mi dispiacciono proprio questi ombretti poi sono proprio setosi come punto luce ho messo invece questa sorta di bianco argento no vabbè la formula mi piace veramente tanto questi colori molto eleganti luminosi ma delicati sicuramente perfetti da tutti i giorni niente niente male bisogna solamente vedere adesso come terranno perché di chico in passato magari degli ombretti mi avevano colpito così appena applicati e poi già dopo un'ora così perdevano tantissimo quindi vediamo se resisteranno bene se resistono bene per me sono degli ottimi ombretti per look da tutti i giorni ripeto anche molto delicati beh dai l'ombretto è pigmentato questo opaco scrivente mi sembra che si sfumi anche senza problemi considerando anche che insomma un colore abbastanza scuro un prugna violaceo non è male mi sembra anche lui bello morbido e setoso niente niente male questa palettina per ora niente male ripeto vediamo poi come si comporta e magari vado anche con questa tonalità violacea nella rima infracigliare vediamo com'è se scrive anche qui si no no è decisamente scrivente ho terminato il look oggi sono tornata anche all'eyeliner era un po' che non facevo l'eyeliner la riga di eyeliner perché mi sentivo gli occhi un po' pesanti in questo periodo però ogni tanto mi manca proprio e ho messo poi il Maxim Mode mascara di Kiko che è uno dei miei mascara preferiti temo che sia addirittura d'arrivo però lo acquisterò sicuramente perché sulle mie ciglia funziona molto bene il look wow niente niente male mi piace se terrà la luminosità soprattutto degli shimmer magari vi lascio un aggiornamento poi nei commenti questa è la migliorazione palettina in assoluto di Kiko che abbia provato soprattutto ripeto per le tonalità shimmer che sono quelle che mi interessano per gli opachi appunto per me non è completa non è completa o comunque mancano le tonalità più che altro che interessano a me ma fa nulla avrei fatto veramente anche solo shimmer tanto gli opachi siamo proprio pieni ma vi devo dire che se dovesse tenere bene mi verrebbe voglia di acquistare anche l'altra versione sono belle esteticamente pratiche piccine si realizza un look facilmente questi ombretti shimmer funzionano benissimo anche come ombretti unici mono per look da tutti i giorni quindi vediamo mi riservo solo sulla tenuta degli ombretti però in sé il look iniziale è molto 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 carino allora terminiamo con le labbre voglio andare a utilizzare un rossetto di questi lasting matte veil che sono dei rossetti liquidi usciti almeno un anno fa che non ho capito se sono rimasti poi in linea permanente non ci ho più fatto caso non ci ho più guardato non lo so voi lo sapete non so se si trovino ancora ne ho due due tonalità che mi piacciono tantissimo questa è la 07 dato che un po' che ne l'utilizzo oggi voglio andare proprio a utilizzare questo rossetto liquido che ha questo applicatore mi ricordo che a questo colore mi piaceva un sacco andiamo a rimetterlo che poi caspita hanno una formula fantastica l'applicatore permette di essere precisissime anche senza una matita labbra la formula è quasi un po' morbida un po' mossosa cremosa veramente fantastica infatti mi piacevano tantissimo poi tra le varie cose ho un po' smesso di utilizzarli ma li devo riprendere soprattutto perché li ho in due colori che sono molto molto primaverili mi piace che si bilanci bene questo queste tonalità nude rosate lilla più soft per gli occhi e questo colore bello vivace sulle labbra questo è il mio colore primaverile insomma ciclamini magenta poi dalla primavera in poi per me sono insomma proprio le mie tonalità e la base è stupenda guardate vi faccio vedere proprio lo stato della mia pelle ma sapete che ve lo mostro sempre così esattamente come la vedete in video questa è la realtà con tutti i miei pori oggi non ci sono particolari imperfezioni ma se ci sono ci teniamo anche loro linea di espressione che però vedete che il fondotinta assolutamente non va a marcare neanche le naso labiali è veramente stupendo perché è proprio leggero però da quella uniformità quell'aspetto bello con un finish naturale leggermente radioso però per nulla lucido e poi tutti i prodotti che appunto danno questa radiosità bellissima ma non quella luminosità eccessiva insomma nel bene e nel male ripeto questa è la mia pelle però mi piace mostrarvi proprio la resa reale dei prodotti io sono super soddisfatta con questi prodotti utilizzati oggi Kiko secondo me ci ha regalato delle pelle nonostante la ripetitività di queste collezioni io aspetto ancora quel twist quel qualcosa di diverso ormai da un anno a questa parte qualche cosina di interessante secondo me si è trovato anche se non molto più qualche acquisto ho fatto della mia permanente di qualche prodotto che non avevo ancora provato che mi ha soddisfatto al 100% quindi comunque negli ultimi mesi delle gioie Kiko me le ha regalate lo stesso e insomma questi prodotti che abbiamo utilizzato oggi lo confermano totalmente fatemi sapere se avete poi preso qualcosa della collezione o se nel frattempo avete provato i prodotti come vi sembrano insomma sono comunque curiosa di sapere anche i vostri pareri sugli altri prodotti se li avete già usati e provati niente io vi saluto vi mando un bacione grandissimo se volete ci vediamo alla prossima ciao ciao